La banchina degli alti fondali a Porto Torres riprende le sue regolari attività, in seguito ad un programma di riqualificazione iniziato nel 2016. I lavori, finanziati dall'ex autorità portuale del Nord Sardegna, sono costati circa 3 milioni di euro, ed ora il Porto Torres può vantare uno scalo lungo 445 metri, con banchine ristrutturate e nuove vite, capaci di sostenere un peso di 100 tonnellate. Lo scalo è approntato per ospitare anche le imbarcazioni più moderne e grandi. L'amodernamento è stato concluso nell'estate del 2017 e il taglio del nastro è stato effettuato dal ministro dei trasporti Graziano Del Rio. Siamo giunti ad una fase cruciale del rilancio dello scalo di Porto Torres, afferma Massimo Dejana, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Stanno anche andando avanti le procedure per individuare l'ente di edito ai dragaggi del porto. I materiali ricavati verranno utilizzati per il riempimento dei cassoni dell'antemurale. I lavori effettuati servono a ridare allo scalo un ruolo strategico nel miglioramento del porto e dell'intero sistema portuale sardo.